E devo tenere premuto? No, 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 c'è stato premuto Allora, benissimo Questa è la sera prima della partenza Aspetta che togliamo questo casino Ciao amici, benvenuti nel mio canale Sono esattamente mezzanotte e 21 Dobbiamo andare a dormire, prendiamo a svegliarci alle 4 e mezzo E siamo ancora a sveglie Ancora dopo mi preparerà la valigia Non trovo il mio cappello da pescatore Ho il cappello da Paris Hilton Molto triste Vabbè, faremo un po' con questo Sì, faremo un po' Ci aggiorniamo alle 4 e 20 Quindi questo è il day zero A dopo amici Buonanotte Ciao Come va? Partenza Sì Dai Stavo morendo, ora mi sono ripresa devo dire Sono più carica Ora colazione però Che forza Assolutamente Che bello essere un aeroporto Non mi sembra vero Questo mi sembra tipo un sogno Una cosa impossibile da fare Cortisone subito Prima della partenza Dai amichi Vai Ok, siamo arrivati all'aeroporto di Palermo Stiamo aspettando il nostro amico della macchina Amici, questo è il nostro volide 500X assurda Guarda, 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 guarda che qualità Che qualità Dobbiamo andare a Porto Empedocle Sono un'ora e 56 Arrivate Che bella Guarda la doccia Una villa veramente fichissima Poi abbiamo la piscina Che ora andremo a vedere Troppo carino questo posto Oh wow, guarda, c'è dietro le palme Cioè questa sabbia è assurdamente morbida Sì, piccola Entrerà ovunque Che fai con la mascherina? Io ne ho abitudini Abbiamo comprato il nostro amico ombrellone a 10 euro Non so più nel caso mai sentito prima Sisa Sisa No Ha rubato il posto Totalmente Ciao amico L'abbiamo provato È volato E quindi rip ombrellone Ciao Io innamoratissima Bimba di Oliver Socks Oggi day one Sì, che è finito il day one praticamente Franno le otto più o meno Il mare è qui Il tramonto è lì Abbiamo fatto delle foto E poi stasera pizza Oggi non abbiamo fatto vedere il pranzo Ma abbiamo pranzato con i panini nel baule della macchina Tra l'altro è con un panino L'altro è ancora E l'altro è ancora lì Andiamo a prendere la pizza Ci vediamo dopo Pizza che abbiamo preso Super buona Non abbiamo presa troppa per colpa sua Un esemplare di Samantha Bollacca Guarda qua che piscina Siamo stati finora a parlare con le signori dell'hotel Massimo e Paola Se state guardando questo video Cazzo non glielo ho detto Poi devo dire Assurdo come finisci per dire delle cose tue A persone che non conosci Assurdo 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 Noi andiamo a dormire Sveglia un quarto alle otto Scala dei Turchi Vale dei Templi E Agrigento Dal giorno 1 È tutto Buonanotte amici È molto bianca Riflette la luce che è una cosa Ovviamente non si può andare La gente era tutta lì sopra Ormai tu sei la fotografa ufficiale della Skydour Quindi se siete qua Ovviamente potete portarvi dietro una Samantha Però si sta vedendo che non si può andare neanche nell'acqua Quindi proprio devi rimanere fuori dalla boba gialla Siamo finite con l'ombrellone Facciamo un po' di esercizio E là tu c'è la scala dei Turchi comunque Stiamo lasciando questo bellissimo posto pieno di rocce Con un caldo Cioè il volante è tipo di fuoco Niente poi andiamo alla Valle dei Templi Come è sofisticato Valle dei Templi Ciao Mare Ciao Le abbiamo intravisti Sono Cioè non ho parole Sono bellissimi Ma la freccia ha gli indiani? No comunque veramente Stiamo cercando di capire dove parcheggiare E quindi siamo andati Dopo tante parole siamo andati a andare a una vecchia Non tante, tantissime Sì Siamo separati Abbiamo fatto vedere il Green Pass Il documento Ci hanno perquisito Ora stiamo facendo il biglietto Siamo entrate Stiamo aspettando la nostra meravigliosa guida Valentina Ci piaceva aspettare 80.000 anni E intanto stiamo guardando Pensavo che eri seria Ma non è la miseria Valentina ma è lassata Pensavo seria Sì Toccoliamo Grazie Un attimo E La nostra guida Mi colloca Non ti preoccupare Non ti preoccupare Quasi arrivati alla fine di questo percorso Ciao Perché mi sbigliamo? Non lo so Veramente merita un sacco farlo Per me merita prendere la guida Perché se tu vedi da solo Vedi solo un mucchio di pietre Anche perché non c'è scritto niente Quindi non puoi leggere da solo Tempio dei Dio Oscuri Ce lo spiegherà la nostra amica Valentina Per questo l'abbiamo pagata Siamo ad Agrigento Stiamo cercando assolutamente qualcosa da mangiare Dato che oggi mi ho mangiato solamente un pezzo di pizza di ieri Devo dire che Agrigento dovrebbe essere La città di Pirandello O mi sbaglio? Beh La Samy ha preso un gelato Pistacchio e cocco Anche se voleva limone Ma gli ha messo cocco Vabbè E' enorme E adesso si mangia La Samy mi ha chiesto il limone Ma lui gli ha messo il cocco E poi gli ha portato questa Ha provato gelateria Gelateria Beccata Sì Cioè ancora siamo vestite Però siamo nel lettino E ora si dorme Perché domani si va a Noto Noto Questo giorno 2 finisce così Ciao amici Mi sono messa la crema prima di struccarmi Buonanotte amici a domani Buonanotte amici Buonanotte amici Ti senti in un film? Qua sì Che solito non succede mai Niente di buono Quelli che passeggiano Con questa musichina Il tramonto così Un po' nelle nuvole E dietro la basilica Cioè Io Non potrei cambiare Con la musichetta Diamo i di che Siamo un po' così Siamo un po' romanti Un romanticismo andante Il vento che ti muove i capelli Cioè no Proprio È un film Un film Un film Samanta fotografa ancora E ancora E ancora Costruito da Gagliardi e Sinatra Canta Canta Dirige l'orchestra Il maestro Pepe Vecchi Finalmente si mangia perché Io ho mangiato un pacchetto di patatine oggi Lei non ha mangiato niente Io non so come fa Troppo al salmone Approvate Buonissima Pasta con pistacchio e pancetta Consigliato? Mezzanotte 57 Siamo arrivati ora a casa Abbiamo fatto tre ore di macchina Da Noto a qua Quindi anche questo giorno Tre Si conclude qua A domani Grazie mille Alla prossima Saremo più fortunate Orario Bagliatissimo Ciao 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 Ciao